Buongiorno ragazzi, oggi parleremo di un altro materiale molto molto utilizzato, cioè la carta. Guardiamoci intorno. Vediamo che la carta la troviamo sotto tantissime forme. Allora, abbiamo per esempio carta utilizzata in cartoleria, quindi la carta dei nostri quaderni, ma anche tra i quaderni stessi notiamo delle differenze, delle differenze di spessore, delle differenze di colore e così via. Una carta che viene utilizzata per esempio per le riviste, per i quotidiani, la carta che viene utilizzata per i libri. Anche la carta per usi domestici, come una carta assorbente, la carta igienica, la carta che utilizziamo per i tovaglioli. O anche carta per imballaggi, come appunto la carta pacco, o anche il cartone ondulato, le varie confezioni dei vari elementi. Quindi vediamo che la carta è un materiale molto importante e che viene utilizzato in tantissimi settori. Oggi scopriremo come viene realizzata la carta. Ma prima ancora facciamo un passo indietro e vediamo da un punto di vista storico quando la carta è nata, chi l'ha scoperta, come è stata fatta. Allora, diciamo che il foglio di papiro è l'antenato della carta. Risale il suo utilizzo al 3000 a.C. circa. Come si otteneva? Venivano unite una sull'altra, per mezzo di sostanze collanti vegetali, delle sottilissime striscioline ricavate dallo stelo della pianta del papiro, appunto. Dopodiché venivano intrecciate fino a formare una sorta di trama e quindi veniva realizzato il foglio. Fu sostituito, negli anni successivi, dalla pergamena. Pergamena, anche questo materiale di origine, diciamo, organico, era fabbricata trattando la pelle di alcuni animali. I primi libri che sono stati scritti a mano sono stati realizzati proprio sul supporto di pergamena. Alla pergamena, diciamo, a partire dall'anno 1000, si afferma l'impiego della carta che nasce in Cina. La materia prima, in questo caso bambù, quindi sempre di origine vegetale, veniva raschiata e lavata, cotta in acqua calda e calce e poi battuta, per separarne bene le fibre e trarre un foglio che veniva poi pressato e asciugato, così come si vede in figura. Dalla Cina arrivò un po' anche agli arabi e in Italia proprio gli arabi portarono questa nuova arte e proprio nel nostro paese si sviluppò un ottimo artigianato. Proprio da Fabriano risalgono i primi documenti, circa il 1300, e i maestri cartai diffusero da lì quest'arte in tutta l'Europa. Vi ho voluto citare proprio Fabriano, proprio questo logo, perché gli album che ancora oggi noi utilizziamo nel disegno tecnico sono appunto questi che vengono da Fabriano. E sono anche album, diciamo, realizzati con carta di altissima qualità. Quali sono gli usi principali che facciamo della carta? Allora, la carta la ritroviamo, come dicevamo prima, un po' ovunque. Abbiamo una carta da stampa che viene utilizzata per i giornali, per i periodici e per i libri, ma vediamo che anche all'interno di questa categoria ci sono delle differenze, perché possiamo trovare una carta più o meno lucida, una carta patinata, una carta anche riciclata, quindi con dei colori particolari. Una carta che viene utilizzata per la scrittura, quindi abbiamo i quaderni e gli album, e anche in questo caso possiamo riscontrare delle differenze. Carta che serve per involgere o per imballare, come per esempio la carta pacco, la carta velina, la carta plasticata, ma anche il cartone ondulato. La carta per usi domestici, quindi troviamo una carta assorbente, la carta forno, una carta igienica. Troviamo anche una carta oleata, per esempio, che viene messa quando vengono realizzate le fritture, o in particolari tipi di carte che si usano per avvolgere gli alimenti e così via. E delle carte speciali, come carta valori, quella che si usa per stampare soldi, la carta carbone, una carta autocopiante, la carta vetrata, che viene utilizzata nel settore delle costruzioni, ma fanno parte di questa categoria, per esempio, anche il cartongesso o la carta da parati. Allora, come abbiamo sempre detto, per ogni oggetto esiste un materiale che ha determinate proprietà. In questo caso, i tanti tipi di carta vengono utilizzati proprio per determinate proprietà. Allora, vediamo che la stampabilità è una delle proprietà più importanti. Questa carta che ha queste proprietà viene utilizzata appunto per stampare i libri o i giornali. Piegabilità è anche una proprietà importante, la flessibilità o l'igroscopicità, come dicevamo prima, per assorbire i liquidi, ma anche la grammatura. Dalla grammatura dipende anche la tipologia di carta. Abbiamo la carta vera e propria, che va da 10 a 150 grammi al metro quadrato, il cartoncino, che diventa un po' più pesante, e il cartone, che è ancora più pesante e resistente. Possiamo subito fare la prova per renderci conto, confrontando la carta del nostro quaderno di tecnologia con il cartoncino di cui è fatto il nostro album. Ma da dove deriva la carta? Allora, com'è fatta? La carta è un materiale formato da milioni di fibre di cellulosa che sono saldate, attaccate le une alle altre, insieme anche ad altri materiali. Ma da dove prendo questa cellulosa? Allora, la principale materia prima è il legno, che viene ricavato generalmente da foreste appositamente coltivate, per produrre cellulosa. È importante che in queste foreste, per ogni albero tagliato, ne viene piantato un altro, così non si impoveriscono mai. Come si produce? Allora, andiamo a vedere più da vicino, quindi, quali sono queste materie prime. Per prima cosa abbiamo detto cellulosa. Allora, le materie prime essenzialmente sono materie fibrose, quindi fatte da fibre. E possono essere la pasta di legno, che è questa in fotografia, ricavata direttamente dal legno, la cellulosa disidratata e anche la carta da macero, vale a dire la carta riciclata. Queste sostanze, tutte insieme, vengono migliorate attraverso una serie di sostanze collanti. Possono essere resine, amido, caseina. Come dice la parola stesso, collante serve a tenere insieme. Ma poi, per rendere il foglio ancora più bianco e facilmente stampabile, posso usare anche delle sostanze di carica, come il carbonato di calcio, il caulino e il talco. Andiamo a vedere come si produce. Allora, per prima cosa, bisogna produrre la pasta. La pasta può essere prodotta con due metodi diversi, con due procedimenti, diciamo. Un procedimento meccanico e un procedimento chimico. Nella foto vediamo il procedimento meccanico attraverso il quale si ricava la pasta di legno. Guardando il disegno, diciamo che è molto intuitivo. I tronchi degli alberi vengono scortecciati e tagliati attraverso queste, diciamo, particolari catene. Tutti i residui e pezzettini vengono a trovarsi, diciamo, a depositarsi sul fondo insieme all'acqua e vengono portate via, fino a formare appunto questa pasta che viene raffinata e poi lavata. Il procedimento chimico deriva sempre, diciamo, partiamo sempre dall'albero. In questo caso abbiamo già dei chips, cioè l'albero è già stato tagliato in piccole scaglie, in piccoli pezzettini. Questi chips vengono inseriti all'interno di questa sorta di autoclave dove, insieme ad alte temperature, insieme al liscivo, che è una particolare soluzione chimica, e ad altre sostanze, viene fuori una pasta greggia. Questa pasta greggia, composta da fibre di cellulosa ancora impregnate di liscivo, deve essere poi purificata, separata, viene ulteriormente lavata. E questo, diciamo, che vediamo nella fotografia è l'aspetto della pasta che viene ricavata attraverso il procedimento chimico. Sempre chimicamente si può ricavare anche la carta da macero. In questo caso è realizzata appunto la materia prima, non diventa più il legno, ma la carta e il cartone che si ottiene dalla raccolta differenziata, che viene sminuzzato, vengono eliminati gli inchiostri, viene ridotto in poltiglia e viene poi sbiancato. È importante, ragazzi, sottolineare che una volta che avviene la raccolta differenziata, è importante per prima cosa separare la carta da tante altre impurità che potrebbero venire a trovarsi come plastiche, metalli e così via, perché altrimenti la qualità della carta che si ottiene risulta veramente, diciamo, bassa. Una volta che ho ottenuto la pasta, devo preparare l'impasto. Allora, come vedete, schematizzato nel disegno, ho un silos con pasta chimica, un silos con pasta di legno e un silos con pasta di cartaccia. A seconda del tipo di carta che voglio ottenere, utilizzo una miscela o anche queste paste singolarmente. Per esempio, per ottenere la carta di quaderno usiamo la pasta di cellulosa. Per la carta di giornale possiamo utilizzare la pasta legno e la pasta di cartaccia. Vediamo in fotografia come vengono depositate queste paste che poi entrano all'interno di un raffinatore conico. Dopodiché tutto l'impasto viene miscelato insieme alle sostanze che dicevamo prima e viene inviato alla macchina continua. Quindi questo è l'impasto e poi abbiamo l'ultimo passaggio. In che cosa consiste l'ultimo passaggio? Nella realizzazione del foglio. Quindi vediamo che l'impasto viene inserito in questa macchina e ci sono tantissimi rulli che fanno in modo di assottigliare sempre di più questa poltiglia. In una prima fase si perde l'acqua, successivamente questi rulli cilindri schiacciano, compattano e affinano sempre di più il foglio. Nell'ultima fase i cilindri sono anche riscaldati in modo da far evaporare la restante parte di umiltà e poi si genera la bobbina vera e propria. Ragazzi, questa è una macchina continua. Dalla foto si vede che ha dimensioni veramente gigantesche se la paragoniamo per esempio a questi omini che vediamo. Adesso ci vediamo un piccolo, un breve video che è stato realizzato da Discovery Channel dove viene riassunto l'intero procedimento della realizzazione della carta. Benissimo, adesso facciamo un piccolo focus sulla carta riciclata. Allora, è importantissimo il riutilizzo della carta. Abbiamo rappresentato qui il ciclo di vita della carta dove da risorsa, quindi dal legno, viene lavorata, poi distribuita, venduta, utilizzata. Una volta utilizzata può essere riciclata e vedete il ciclo ricomincia da capo. È importante perché la produzione di carta riciclata non inquina, soprattutto se le cartiere sono dotate di attrezzature per il trattamento delle carte da macero. Acque di scarico e residui della lavorazione possono essere utilizzati anche in altri settori come quello dei laterizi, sottofondo per lavori stradali, nella cobertura delle discariche. Anche nel video poco fa abbiamo visto che i residui della lavorazione del legno vengono riutilizzati addirittura nello stesso ciclo di produzione della carta. Uno schemino molto importante che è rappresentato anche dal vostro libro è questo. Per realizzare una tonnellata di carta è necessario utilizzare 15 alberi, 440.000 litri d'acqua, 7.600 kWh di energia elettrica. Invece, se utilizzo la carta da macero, 0 alberi, 1880 litri d'acqua, 2700 kWh di energia elettrica e ho ottenuto allo stesso modo una tonnellata di carta. Riguardiamo il grafico. Allora, un piccolo focus. Il tetrapack, allora, questo tipo di contenitore viene utilizzato, lo troviamo per esempio nei latte, nei succhi di frutta, bevande di vario genere. Anche il tetrapack può essere riciclato. Innanzitutto vediamo dalla fotografia che è costituito da una serie di strati. Diciamo che i più importanti, i principali sono costituiti da uno strato di materie plastiche esterno, uno strato di carta interno e uno strato, cioè intermedio, voglio dire uno strato di alluminio all'interno. È possibile in fase di smaltimento separare la frazione di alluminio dalla frazione plastica da quella di carta e questa frazione di cellulosa può essere riutilizzata nel riciclo della carta. Adesso, ecco, facciamo il mini-test. Quali sono le materie prime utilizzate per fabbricare la carta? Che cos'è la carta da macero? Quanti tipi di carta esistono? E descrivere in breve la storia della fabbricazione della carta. Per quanto riguarda i compiti per casa, dobbiamo riguardare il video delle lezioni, di integrare gli appunti, studiare dagli appunti e dal libro, pagina 33 e 37, gli esercizi pagina 98, numero 5 e 6. Buono studio!